Ciao bambini! Allora, oggi per il laboratorio teatrale vi leggerò delle filastracche sui 5 sensi. Ascoltate! I 5 sensi Il tatto Io sono il tatto, assai curioso. Lavoro sempre e mai riposo. Aiuto le mani a toccare per capire ed imparare. Trasmetto sensazioni attraverso la pelle. A volte sono brutte, ma spesso sono belle. Posso sentire il dolore, ma anche una carezza che trasmette amore. Il gusto A me gusto mi ha chiamato. Sono molto fortunato. Con la lunga lingua posso gustare ogni cosa che vai a mangiare. Tutto quanto al suo gusto è accertato. Il dolce, l'amaro, lo sciapo e il salato. Di riconoscerli sono capace, così tu scegli ciò che ti piace. La vista Ciao bambini, sono la vista. Dei 5 sensi la prima è lista. Io faccio il mio dovere, aiuto gli occhi a vedere, a vedere i colori, le forme e ogni cosa che rende la vita meravigliosa. Ciao bambini, sono la vista.